Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un nuovo video. Nel video di oggi andremo a vedere perché lo zippone si ritrova in questo stato. Che cosa sarà mai capitato? Bene, dai, prima di partire col video, solite cose, iscrivetevi al canale, tasto mi piace e se ci sono delle domande un commento. Vi rammendo inoltre che nel video precedente avevo fatto un vlog, il primo vlog del canale, in cui appunto vi chiedevo se eravate d'accordo nel comunicare, nel condividere determinate argomenti, chiaramente inerenti sempre al nostro mondo dei motori. Guardatelo, ve lo lascio anche in link in descrizione, che così mi fate sapere qualcosa anche lì. Detto questo, iniziamo! Bene, allora, come indicato nel video, oggi andiamo a vedere perché lo zippone si trova in queste condizioni, poveretto! e l'ho smontato ovviamente per un motivo, non perché non avevo niente da fare. Allora, iniziamo subito col dire intanto che ci troviamo a fine gennaio e come ben saprete io lo zip lo uso principalmente per fare dei test, quindi portare avanti sempre determinati progetti e migliorare sempre determinate cose che noto che non funzionano correttamente, quindi cercare sempre di ottenere un mezzo più prestante possibile, ma nello stesso tempo affidabile. e per questo motivo io durante il periodo invernale accendo semplicemente il nostro mezzo per farlo scaldare, quindi per far girare un po' la pompa dell'acqua, per far sì insomma che tutti i gommini non si secchino completamente, quindi mediamente una volta a settimana circa lo accendo, lo lascio acceso, lo lascio andare in temperatura, mi faccio un gerettino quando possibile e poi lo spengo. Purtroppo questa volta mi è andata male, mi è andata male perché avevo una vecchia batteria, in quanto la mia ce l'ho sottocarica come avrete visto sicuramente dai vecchi video con il mantenitore di carica, e quindi avevo messo sopra il nostro zippone una batteria che avevo in garage, che purtroppo era scarica. Ahimè ho fatto una cavolata perché andando a mettere una batteria scarica il regolatore di tensione purtroppo non è molto preciso, ma come non è preciso neanche quelle delle auto, e quindi quando manca un accumulatore, cioè la batteria, può dare delle scariche. Delle scariche che chiaramente se la batteria non è presente, quindi non è carica, non può assorbire questa scarica, vanno direttamente sull'impianto elettrico, andando sull'impianto elettrico va a bruciare ciò che incontra. Nel mio caso è andata a bruciare, ovviamente come avrete già visto, il fanale, poi si era bruciata una freccia e si era completamente cotto il fusibile. Quindi sono andato a smontare tutto per verificare che i cavi e tutto il resto non avesse fatto niente, perché per andare a cuocere, non a far saltare, ma proprio a fondere il fusibile, devo aver beccato una bella scarica. Quindi siamo andati a cambiare il fusibile, sono andato a smontare tutto per verificare i cavi, che fortunatamente sono perfetti, non si è bruciato niente. Si era bruciata anche una lampadina che ho provveduto già a cambiare e al momento si trova messo così perché sto aspettando i nuovi kit di faretti a LED che produce il nostro amico ZPSP Cavalien e inoltre questa volta andrò a montare anch'io un kit di colore bianco. In quanto se vi ricordate, precedentemente avevo i fari coi co-LED, quindi coi LED, ma di colore giallo, per intenderci come le vecchie auto. Già che adesso li devo cambiare, li metto bianchi stile Xeno, esattamente come ce li ha Cavalien, che probabilmente stanno anche meglio. Poi, per chi non l'avesse visto, nel precedente video avevo fatto il primo vlog in cui andavo a parlare del perché sono un pochino sparito sul canale. Quindi vi rammendo, come diciamo qua noi, di andarlo a vedere perché ci sono un po' di novità e avrei bisogno, insomma, anche di sapere la vostra in modo da creare, insomma, una community e cercare di essere tutti più uniti, ecco, diciamo così. Va bene ragazzi, quindi vi lascio il link del vlog in descrizione e anche a fine video, lo zip in questo momento si trova così, ci saranno importanti aggiornamenti su tutti i progetti che sto facendo, a cui sto lavorando, che troverete nel video precedente. Da Farotube e dal nostro Zippone, senza fanare tutto, un saluto, alla prossima! Ciao!